Dall'Europa al Nord Africa passando per il Medio Oriente, attraverso 300 foto ottocentesche stereoscopiche, ossia la prima versione dell'effetto 3D sulle immagini. Questo è il Grand Tour, la mostra che coinvolge l'intero polo museale a retino e che si articola tra il Sottochiesa di San Francesco e il Museo Archeologico. Questa mostra documenta un settore particolare, cioè la fotografia stereoscopica, che permetteva attraverso la vicinanza di due immagini dello stesso soggetto, con pochissimo scarto ovviamente spaziale, la possibilità attraverso dei visori particolari di rievocare in un anticipo del 3D l'immagine del luogo, del panorama. Questa è chiaramente una volontà di rievocare, di portare con sé la memoria, è un ricordo più forte di quello che poteva essere la semplice memoria personale, attraverso questa tecnologia che all'epoca era molto nuova, che riusciamo a malapena a immaginare, perché nel frattempo le tecnologie sono molto cambiate. Però la volontà di portare con sé un ricordo dei viaggi è ancora oggi fortissima. Noi vediamo i visitatori turisti che fotografano se stessi attraverso il selfie, ormai si parla dei telefonini, si parla dei tablet, ma l'impeto e la volontà è lo stesso, di riportare con sé un ricordo dei luoghi che hanno visitato. La mostra è dunque un viaggio nel tempo, tra il 1850 e il 1910, ma anche nello spazio. Quindi la mostra presenta queste immagini tridimensionali che raccontano questa epopea, questo grande viaggio, in mostra abbiamo anche dei visori, delle macchine fotografiche e poi c'è il film in 3D che è stato prodotto appositamente per la mostra e che con una colonna sonora originale, con effetti speciali, porta i visitatori con i moderni occhiali 3D appunto dentro a queste città e questi luoghi di 150 anni fa che in parte non esistono più. E ad Arezzo si aggiunge una sezione dedicata alla storia della città. Abbiamo anche scelto, grazie alla collaborazione col fotoclub La Chimera, che ringrazio, di aggiungere alla mostra una sezione specifica dedicata proprio alla città di Arezzo. Questo ovviamente per offrire agli aretini prima di tutto un arricchimento del percorso della mostra, ma anche perché noi turisti che potranno vedere immagini molto belle, molto affascinanti della città di Arezzo, tra 8 e 900 e quindi potranno offrire uno spaccato e un'aggiunta alla mostra legata proprio alla città di Arezzo.